Pirandello europeo, è questo il nome dell'incontro che si è svolto questo pomeriggio al coro di notte del Monastero dei Benedettini. Sono intervenuti tra i tanti il direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche Giancarlo Magnano Zallio e la professoressa Sara Zappulla Muscarà dell'Università di Catania. Un incontro di studi che trae spunto anche dalla presenza di un illustre studioso di Pirandello, Michael Ressner dell'Università di Monaco di Bavere, che è il traduttore in lingua tedesca di tutto Pirandello per una riflessione che riguarda la dimensione, la statura internazionale di questo nostro grande gigante e anche il ruolo che ha avuto nel Novecento nel campo proprio della traduzione. Pirandello aveva sempre riflettuto sulla traduzione, è stato l'autore più tradotto nel mondo e egli stesso passa da un genere all'altro, dalla poesia, alla narrativa, al teatro, al cinema ed è traduttore di altri, pensiamo alle leggere nane di Ghieta, ma pensiamo anche al Ciclope di Uripida, Glauco di Morselli, alle sue stesse commedie dialettali siciliane, che lui traduce dall'italiano in siciliano oppure dal siciliano in italiano, perché oggi è necessario, come dice Tabucchi, che ci sia un viaggio nell'opera dei grandi scrittori e questo viaggio lo consente solo la traduzione.